E' il momento di aprire il cartone del latte, la confezione Mary. Allora, questa roba in teoria contiene, ve lo leggo, una carta aiuto olografica e figura intera di Mary, che detto così sembra tipo un fogliettino brutto con le istruzioni, ma intende una promo full art. Tre carte aiuto olografica aggiuntive di Mary, che sono altre promo, poi le buste protettive, il portamazzo, la moneta, robe e tante buste da aprire. Quindi apriamo il cartone del latte. Allora, prima cosa, la moneta è gigante ed è meravigliosa. Quindi primo pro di questa confezione. Il paghettino con le promo, che lo apriamo a breve. Poi abbiamo le buste protettive, che sono tipo tra le buste protettive più belle che io abbia visto ultimamente. I segnalini bruciature e veleno. I dadini per i segnalini danno. E poi abbiamo il famoso robusto portamazzo, che sono tipo, non so come dirvelo, è stretto come la merda. Sono quelli da edicola, però c'è Mary sopra. Quindi, figo, I guess. Con lo strappino tondo e dentro ci sono le buste da spacchettare. E vediamo che buste ci sono, perché io non l'ho mica visto. Sono fiamme oscure, fiamme oscure. Voltaggio sfolgorante. Voltaggio sfolgorante. Poi abbiamo regno glaciale, regno glaciale, regno glaciale. Quindi vado ad aprire il pacchettino con le promo. Anzi, prima apro anche l'altra e metto tutto sopra. Faccio una roba fatta bene. Allora, togliamo un po' di roba dal mezzo, perché qui queste buste protettive e queste monete sono un bel plus. E allora, apro questa roba qui. Allora, qui c'è il codice che mi frego come al solito. E poi ci sono le promo. Fa vedere. Trovo qualcosa di importante? No. Sto sbustando cose con le promo e quindi non so se lo sfiga io, ma ho sbustato veramente male per adesso. Vediamo queste promo comunque. Abbiamo Mary Full Art e le Mary così, che sono tutte uguali giustamente. Così uno si può fare il playset. Sono bellissime. Sono Cosmos. Con la firma. No, sono veramente belle. Vado in ordine storico come al solito. Il votaggio è dopo. Non mi ricordo sta cosa. Vabbè, vado in ordine di come me le ha messe. Sono quelle buste in cui mi confondo un sacco. Allora. Comuni, comuni, comuni. Ho schifato direttamente alla reverse perché mi sono sbagliato. Con dietro. Almeno c'è una holo. Almeno c'è una holo. Almeno c'è una holo. Aspetta che le posiziono in modo decente. Però onestamente, gustavo talmente male fino adesso che vorrei qualcosina. Attenzione. Abbiamo un Salamence V che non è la miglior V della busta ma onestamente con tutto quello che abbiamo trovato oggi, mi veniva da dire stasera è tanto di guadagnato. Big up per questo Salamence che deve stare nell'inquadratura in qualche modo quindi facciamo così. Non comuni qua. Bene. Bene, bene così. Si va avanti. Neanche i prezzi. Limo non lo so. Li devo controllare. Onestamente non so quanto stia Salamence in questo momento. Dovrei dare un'occhiata e comunque sono inserzionico caricato da parecchio. di conseguenza quando faccio l'update magari ci si manca i prezzi. Non è comunque attenzione. Qui ho schippato tranquillamente ad Agron. Se c'è qualcosa che costa tantissimo lo dico comunque non vi preoccupate. Però non arriva a 10 euro quel Salamence per dire. Mi sorprenderei se ci arrivassero ammetto. Allora andiamo schippo alla reversa con dietro attenzione ciao signore e signori abbiamo la pick abbiamo la pick datemi un secondo che devo imboostarla abbiamo il Charizard VMAX che onestamente non so quanto stia perché è la prima volta che lo sboosto fatemi controllare sono interessato il Charizard VMAX da busta il Charizard VMAX da busta in questo momento in italiano in italiano ho messo bene perché è appena sboostato 80 euro beh è grassissimo datemi un secondo che vado a prendere un Top Loader non mi sono premunito di Top Loader ok ora ora sta meglio in Top Loader bene in fiamme oscure siamo andati da Dio siamo andati da Dio si va col voltaggio però prima pulisco perché altrimenti chi è? grade ZMA is now following ciao grazie del follow e ho appena sboostato questo quindi mi sto sto flexando allora datemi un secondo che vado a pulire il tavolo anche perché sennò dopo quando metto a posto le carte non capisco più un cazzo le belle le lascio qui questa posizione mi piace e vado col voltaggio no sorry I don't free the codes come al solito quelli che chiedono i codici gratis devono arrivare altrimenti non è una vera live di unboxing aspetta che mi scoccia appoggiare le carte sopra Charizard allora abbiamo ecco io sono già arrivato a vedere dietro per sbaglio abbiamo Clefairy con Metronomo che comunque è una carta buona con dietro il Perseker normale andiamo avanti sempre con voltaggio allora eh bro lol allora meo abbiamo Voltorb reverse con dietro un'altra retta brutta che è Wimsicott che mi scoccia sempre a dire che Wimsicott è brutto ma in questo caso lo è bro che ne ho get the Charizard probabilmente bro sarà in vendita tipo oggi pomeriggio ma più probabilmente domani perché non credo di riuscirci in giornata vediamo allora ho visto qualcosa qui dietro il bordo di quella dietro ha sbreluccicato parecchio quindi ho visto molto male o qui c'è bisogno di un altro Top Loader ragazzi oh oh abbiamo il mantello Secret mamma mia che bello mamma mia che bello e tra l'altro si gioca con Charizard per qualche motivo fermi mettiamo a posto tutto metto tutto al suo posto esatto facciamo così che è più bello bene 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 oggi comunque ci stiamo riprendendo alla grande dopo un inizio che facciamo un pochino schifo bene mancano no manca ancora l'ultima di voltaggio dai è il momento di trovare qui non so il Pikachu ciccione full art il Pikachu ciccione hyper Pikachu ciccione comunque vediamo stavolta non voglio spoilerarmi la carta dietro stai discriminando salame senza top loader è vero però non se lo merita vediamo qualsiasi è che non ho trovato vie di mezzo non ho trovato le vie di mezzo e non voglio mettere il top loader a tutto anche perché c'è una carenza di top loader enorme in questo momento infatti io in teoria dovrei anche venderli i top loader però non ne ho abbastanza per me quindi non riesco a venderli pulisco il tavolo anche perché tutte le spedizioni che faccio con tutte le carte sopra una certa cifra o comunque che hanno un valore anche comunque storico o cose del genere finiscono sempre in top loader quindi li finisco con una facilità disarmante solo oggi non ho usato una decina allora parto con chilling grain allora mettiamo via le comuni sono arrivato a una delle migliori reverse che potevo sboostare il malamar con dietro attenzione abbiamo tandrus b max non vorrei dire una cazzata no questa è la versione regular ok però tanta roba tanta roba mamma mia come direbbe un nostro connazionale mamma mia e anche questa sta senza top loader perché sono stronzo cuori anche per te cuori per chiunque non mi stia chiedendo codici gratis comunque comunque che box hai preso dammi un secondo ho aperto due confezioni Mary quelle oddio ho spaccato la confezione comunque sono quelle così dove ci sono le promo di Mary e sette buste e ho aperto le due confezioni di Calyrex V quelle con la cartona gigante quindi otto buste cioè quattro buste ognuna da quelle di Calyrex e sette più sette qui ora esce Mega Gigacanitar Z allora se uscisse sarebbe molto interessante perché vorrebbe dire che abbiamo creato un pokemon in diretta e abbiamo pure fatto una carta su di lui e quindi ora lo voglio abbiamo Yamask di Galar reverse con dietro e che cazzo ragazzi signori signori abbiamo molto di Galar V questi pacchettini di Mary sono sono una roba eh questi pacchettini di Mary sono allora cosa che esce l'anno prossimo visto come fanno Charlie in tutte le versioni assolutamente sì infatti io sto pensando a che Charizard nuovi potrebbero mettere in leggende pokemon Archeus basta Charizard vi prego buono anche molte si si gioca pure tra l'altro oltre a essere figo allora abbiamo un'altra reverse di quelle buone con dietro un bellissimo slowking di Galar Olo che però tolgo dal mezzo perché non ho posto sul tavolo per le Olo e le reverse se non vi offendete so che siete tutti offesi in questo momento ma sto operando in veramente poco spazio vado avanti sono terzo ultima busta comunque io conto di aprire in live più o meno tutto quello che mi arriva per il negozio quindi anche i box di evoluzione etere li aprirò tutti live non che ne prenda troppi perché per come sta sviluppando il mercato adesso mi sto spostando molto di più sulle carte vecchie però ne aprirò comunque i miei 3 o 4 box dipende da quanto ne arriva in realtà abbiamo qui il fish con dietro signori io oggi la giornata che urlo abbiamo calirex forno spettrale cioè cavaliere spettrale v così dal nulla io non ho parole per questi pacchettini di mary attenzione non ve li sto vendendo cioè nel senso non vi sto dicendo comprate i pacchettini di mary da mary e impitemi di soldi no perché io li ho comprati giusto per aprirli quindi non non gli sto facendo pubblicità ecco e comunque sì quel fish è bellissimo io per come per come funziona il mio negozio vendo soprattutto le singole quindi questi pacchetti quali li prendo soltanto per aprirli e vendere appunto le singole andiamo mancano due buste alla fine non mi aspetto di trovare qualcos'altro Aaron con dietro zepstrica ok lo posso accettare dove i pacchetti belli lo posso accettare io non mi aspetto di trovare qualcos'altro però sono l'ultima busta la nintendo sta facendo veramente leva sulla fanbase di marni ma tra l'altro in realtà con marni hanno fatto una roba bella cioè sono partiti con lei con queste confezioncine qua però adesso le fanno di tutti cioè hanno annunciato soprattutto per il giappone da noi non c'è ancora la distribuzione la stessa confezione con gli altri capi palestra ci sono gli altri che sono bellissimi soprattutto ovviamente quello di Nessa e oddio come si chiama in italiano la capo palestra acqua comunque e ovviamente ma sono proprio belli non si sono ancora viste le full art ma le versioni con la firma sono veramente belle ultima busta quindi io mi aspetto di aprirne altra di questa roba in futuro questa busta si è aperta male generalmente è una cosa positiva aspettate che la faccio fuori dall'incuadratura con paura di rovinare le cose mi cavo pure il codice intanto ci sono allora essendo l'ultima busta abbiamo Dirling abbiamo Golet un bellissimo Diglet Scorbanni che spinge la palla di neve Squovet come reverse abbiamo un bellissimo e cattivissimo Widdle e dietro signori io non ho parole io ragazzi non ho parole dell'opening che abbiamo fatto oggi perché io vi ricordo che questa roba qui tutta la roba che vedete qui sotto tutta questa roba qui è uscita da 14 buste cioè una su due una su due sono sono veramente dispiaciuto di non aver comprato altre confezioni Mary anche se in realtà sono abbastanza convinto di aver semplicemente avuto tanto culo io ma davvero wow wow adesso non mi resta che mettere via tutto questo caricare le carte che vedete qui tutto quello che vedete qui e altre carte di queste edizioni di quelle prima vecchie tutto praticamente sono disponibili nel negozio ebay a records presente in chat all'indirizzo che vi sto per scrivere perché non mi sono premunito di prepararmelo prima che è questo e niente ragazzi ma le promos sono pompate rispetto alle buste normali da box e di solito è il contrario di solito quando apri le buste dei pacchettini così dovrebbero far schifo al cazzo hai visto quelle di Calyrex prima in otto buste non abbiamo trovato una carta buona e invece questa volta cavoli di solito